A voi tutti come sempre ben ritrovati su Meteo Giuliaci, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Davitis. La perturbazione che è giunta nella giornata di domenica lascerà degli strasci che avremo per i primi giorni di questa nuova settimana della instabilità. Instabilità quindi anche nella giornata di lunedì. Lunedì caratterizzato da tempo un po' più tranquillo, almeno al mattino e nel pomeriggio sulla Sicilia, pochi disturbi pomeridiani sui settori orientali. Nuvolosità sulla Sardegna, ma guardate sulla penisola italiana avremo molte nuvole, un po' dappertutto. Instabilità anche tra il Basso Lazio, rovesci di pioggia, qualche isolato temporale tra Basso Lazio, Campania, settori settentrionali della Calabria. Poi guardate rovesci di pioggia e possibili temporali soprattutto sul Triveneto, meno probabili invece sul Nord-Ovest, ma attenzione nel pomeriggio si accenderà. Altra instabilità proprio lungo la dorsale appenninica dell'Italia centro-meridionale. È sfuggita una nuvola e la pioggia, nuvola e pioggia sulla Basilicata, anche sulla Basilicata ci sarà la possibilità di rovesci di pioggia pomeridiani. Quindi lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio, come dicevo, ci sarà della instabilità che tenderà poi a sconfinare verso il settore adriatico. Questa è la previsione per la giornata di lunedì. Tempo quindi inaffidabile, ombrelli a portata di mano potrebbero servire. Arrivederci.